Resiste il commercio, leggera flessione per l'industria, ancora sofferenza per artigianato e costruzioni. È stato un inizio di 2016 molto difficile per l'economia piacentina, come rivela l'analisi del primo trimestre dell'anno elaborata dalla nostra Camera di Commercio. Per quanto riguarda l'industria, dopo quattro trimestri consecutivi di andamenti positivi, a inizio 2016 si è registrata una battuta d'arresto, con un calo sia della produzione, meno 1,8% rispetto allo stesso trimestre del 2015, sia degli ordini complessivi, meno 2,2%. Anche i dati relativi alle vendite hanno evidenziato un piccolo rallentamento ed il volume complessivo del fatturato è risultato in leve flessione, meno 0,1%, complice anche una frenata delle esportazioni. Ancora molto pesante invece la condizione dell'artigianato, che conferma anche in questi primi tre mesi dell'anno una situazione di grande difficoltà. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, infatti, si riscontrano significativi cali sia della produzione sia del fatturato, arrivato addirittura almeno 5,7%. Solo le vendite e gli ordinativi esteri fanno segnare andamenti cautamente positivi. Non ci sono segnali positivi neppure per le imprese piacentine che operano nel comparto delle costruzioni. In questo primo scorcio dell'anno non si intravede, infatti, la ripresa che si attende da tanto tempo. Le aziende intervistate hanno segnalato una significativa riduzione tendenziale del volume d'affari, meno 6,2%, e si tratta del terzo trimestre consecutivo con trend discendente. Infine le imprese del commercio, che segnalano una sostanziale stabilità delle vendite, registrando in termini tendenziali, una variazione pari a meno 0,1%, un piccolo segnale di rallentamento rispetto al dato rilevato nel trimestre precedente, pari al più 0,5%.